Esattamente come 35 anni fa Corrado Tuzzi salire in sella la sua Honda 500 GP per percorrere il tracciato di Imola della mitica 200 miglia, la competizione motociclistica di velocità che si è svolta per 13 edizioni tra il 1972 e il 1985. Domenica prossima parteciperà all'evento della 200 miglia revival insieme a team e campioni che hanno fatto la storia. L'essere invitato a questa gara dove partecipano le più grandi leggende del motociclismo mondiale per me può essere solo motivo di grande soddisfazione e di orgoglio perché rappresenta una specie di Oscar alla carriera, essere considerato ancora dopo 35 anni protagonista di questa che era considerata ai tempi nostri la gara più importante del mondo, la Daytona d'Europa. Corrado Tuzzi torna anche quest'anno all'importante manifestazione che servirà a ricordare le sue partecipazioni alla 200 miglia di Imola avvenuta per tre edizioni negli anni 80, 81 e 82. Nell'83 potevo farlo ma a causa dell'incidente che avevo fatto alle mani ero fratturato e quindi non ho potuto prendere parte a quella che è stata un po' l'edizione più triste per noi perché morì il mio compagno di squadra Guido Paci che in quella circostanza che anche tra l'altro gli appassionati di Sulmona conoscono perché pochi giorni prima della 200 miglia era stato qui a Sulmona al teatro comunale alla presentazione della mia squadra. Quindi parecchi lo ricorderanno e in queste tre edizioni il miglior risultato ottenuto è stato nell'82 con la Suzuki del RG del team Beton Block. Arrivai decimo e arrivare insomma tra i primi dieci al mondo non è una cosa di tutti i giorni per un team specialmente privato come era il nostro abruzzese. Quante emozioni ci saranno adesso nel ripercorrere il tracciato di Imola a distanza di anni? Imola è ancora fantastica, è una delle piste preferite, le mie piste preferite anche se il tracciato rispetto all'originale ha subito diversi cambiamenti, sono state inserite delle chicane, non c'è più la curva famosissima del tamburello, però comunque mantiene inalterata diciamo le caratteristiche principali e è sempre un estremo piacere guidare su quella pista, specialmente insieme a Fior di Campioni che hanno scritto la leggenda di questo sport. Da Sulmona nuovamente a Imola per rivivere le emozioni con la sua moto storica. In che condizioni è e quali sono le sue caratteristiche? La moto è molto più acciaccata di me forse perché l'età la sente particolarmente, avrebbe bisogno di ricambi nuovi, di una bella revisione, però speriamo che ce la faccia anche questa volta a resistere, come è avvenuto nelle edizioni precedenti e a farmi fare bella figura. La moto è una Honda 3 cilindri da gran premio di quegli anni ed era una moto dalle caratteristiche all'epoca eccezionali, una moto che aveva 125 cavalli, il peso complessivo della moto è inferiore ai 125 kg, quindi un rapporto peso-potenza di 1 a 1 e questo gli consentiva delle prestazioni straordinarie. Questa moto passava i 300 all'ora già 40 anni fa, quindi insomma 35 anni fa, quindi una moto che ancora oggi dà le sue emozioni a guidarla. Sarà un onore partecipare a questo evento insieme a grandi campioni del motociclismo, chi ci sarà per l'occasione? Sì, in questa circostanza il grande assenza è Giacomo Agostini che è stato invece presente in tutte le altre edizioni e Freddy Spencer l'americano che non ci sarà, però in compenso ci saranno personaggi che verranno da tutte le parti del mondo, pensiamo per esempio al Venezuela con Johnny Cecotto e Carlo Slavado, i campioni del mondo dell'epoca. Dalla Nuova Zelanda quest'anno arriverà Graham Crosby che era il pilota ufficiale Suzuki dell'epoca e ci saranno anche i nostri piloti italiani, diciamo i campioni europei, Bigliotti, Becheroni, oddio i nomi di tutti non li ricordo, ma ci sarà da Sud Africa verrà Cork Ballington, campione del mondo con la Kawasaki. Insomma non mancheranno grandissimi nomi, ci sarà Gianfranco Bonera, ci sarà Caracchi, insomma tantissimi grandi nomi. Il team e gli appassionati che la seguiranno domenica a Ibola? Sì, il team andremo su con i soliti amici e familiari come anche nelle altre edizioni e la novità di quest'anno sarà che il Motoclub sta organizzando un minibus per degli appassionati che saliranno su domenica a Ibola per seguire questa manifestazione che forse sarà l'ultima del suo genere. Non sarà una gara vera e propria, sarà un'esibizione però quando ci si troverà l'impista, la voglia di correre, non mancherà, è vero? Sì, è una manifestazione, una sfilata di campioni diciamo, però ovviamente quando dei campioni si mettono su una moto anche se in età avanzata la voglia di dargli il gas c'è sempre per cui poi alla fine diventa una scusa per confrontarsi ancora una volta, scoppiano le antiche rivalità. Per esempio ci sarà quest'anno anche per la prima volta Gianni Rolando che era il mio ex compagno di squadra quando eravamo insieme col team Kramas che quest'anno guiderà la Suzuki Texaco Heron del mitico Barry Sheen con il numero 7 e quindi diciamo le antiche rivalità appunto con il mio ex compagno di squadra oppure con il mio avversario come Fabio Bigliotti che fu il vincitore dell'europeo nell'82 quando appunto battagliamo insieme per il titolo sarà impossibile non riconfrontarci un'altra volta in pista come succedeva 35 anni fa appunto.